Che state facendo? Sì, non è. E tu che facete? E io mi stai godendo tutti i studenti che stanno facendo per il nostro paese. E voi dovete fare la poteca? Sì, la poteca c'è la figlia. Ah, figlia? Sì, se ora mi lavai le mani io la poteca. Ah, non ci siete ciò? No, no, io la faccio la risaida. E non aggiatemi con un po'? No, io ora faccio il pane per ammunti. Un pane? Eh sì, noi facciamo il pane, con l'associazione Salatea. Voi volete vendeveniti? Eh, non d'aiuvai a dove, al mio figlio. Perchè? Non d'aiuvai a dove, al mio figlio. E con cui faccio il pane? Tu là? No, facciamo che i genti con l'ospite che vengono a dove trovano. Ah, bene? Eh, certo va bene. Voi volete veniti? Ah, non ti vado io che la mia figlia cammina. Eh, va bene? Quali anno vi faccio vendeveniti? Oh, figlio faccio bene, da qua mi trovate. Ah, vi saluto. Grazie, grazie. Buona giornata. Grazie. Come vi chiamate voi? Io mi chiamo Giulia. Giulia come? Tu esi? Ma senti i sombri. Allora dove sei? Ah, buona giornata. Ciao. Ah. E ora è molto giusto, eh, casa? No, ma vado per qua, se c'è un altro ripinto. E dopo vado a preparare le mani agli ospiti. Vi facciamo il pane. Vi saluto. Ed è molto buon preparato. Sì, vi saluto. Saluto. E quando faccio il pane? Ciò della fornata? No, no, la fornata, la fornata. Sì, 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 noi facciamo scuola di formazione. Facciamo vedere ai turisti come se faccio il pane. Sì, sì. 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 Sì, non c'era Ianna. Sì, non c'era Ianna. Sì. Ma non c'era Ianna. Ma non c'era Ianna. C'era Ianna. C'era Margo Cuccia. Sì. Ma non c'era Ianna. C'era Margo Cuccia. Margo Cuccia Baldo. Sì, c'era. Sì, sì, sì. E quando venono pure. E certo. Quando si fida non venono. E' una giornata. E' una giornata.